Franco Vaccari è il fondatore e il presidente di Rondine Cittadella della Pace, un'organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo. Questi sono giorni in cui la guerra scuote le coscienze, il conflitto fra Russia e Ucraina e la crisi tra palestinesi e israeliani preoccupano e per il momento purtroppo protagoniste sono ancora le armi. A Franco Vaccari chiediamo se la strada per la pace è così impraticabile come sembra. Direi la risposta è sotto i nostri occhi. I fallimenti li stiamo constatando ora per ora, il crescente senso di angoscia e di impotenza, di disorientamento in un mondo nuovo, globalizzato, ci prende tutti. Quindi è solo una constatazione la mia risposta. Le leadership mondiali non sono all'altezza del compito di governare questi processi globali. Quindi sì, è molto difficile trovare la via della pace, però è difficile, direi, diventa impossibile se non cambiamo il parametro con cui pensiamo le cose e pensiamo la nostra vita. Osare la pace, fuori di metafora e fuori di retorica soprattutto, vuol dire partire da se stessi. Non è possibile invocare qualche cosa che non riguarda prima di tutto me, perché stiamo parlando di valori, di valori da praticare. Allora valori che devono essere praticati, per essere autentici, devono essere praticati da chi li propone e da chi li propugna. Quindi il tema, che poi è il tema di rondine, è quello di partire sempre dalla persona umana e dalle sue concretissime relazioni. Quindi per costruire la pace non c'è bisogno di abitare in un luogo di guerra. Basta vivere e avere relazioni impostate in un modo diverso. Baccari, assistiamo in questo periodo ad un fenomeno davvero preoccupante, che trova risonanza sui social. Il tifo per l'una o l'altra parte in causa, come se la guerra fosse una semplice partita di calcio. Tutto questo, non so come la pensa lei, ma oltre ad essere triste, ci fornisce un panorama poco edificante sul livello culturale del nostro paese. Sì, ci sono molte considerazioni da fare su questo argomento. Il primo lo tiro fuori da una citazione di un grande teologo del Novecento, Romano Guardini, che diceva che la mezza verità è la peggiore, la più grande nemica del vero. Cioè, prendere un pezzo, ma ce lo dicono i nostri insegnanti di lettere, come quando ci insegnavano a scrivere bene o a interpretare i testi, prendere una frase, prendere un pezzo da un contesto e tirarlo fuori, gli si può far dire tutto il contrario di tutto. Allora, le storie delle guerre sono storie decennali, secolari, millenarie. E quindi o noi teniamo conto di tutti i processi, per dire una parola sensata, o altrimenti finiamo sempre per valorizzare, enfatizzare alcune ragioni a discapito delle altre. E non ne veniamo fuori, rimaniamo impantanati. Allora, altro è il tema storico della lettura onesta e veritiera di come sono andate le cose. Altro è il tema della cittadinanza, di me, come devo comportarmi per non alimentare una logica dell'odio. E il primo punto è, prima di parlare, innestare il cervello. Cioè, prima di parlare, soppesare le parole e capire la lezione del nostro tempo, ce l'ha detto Edgar Morin, è la complessità. Non possiamo banalizzare ciò che è complesso, pena andare verso una non verità, verso una menzogna. Allora, tenere insieme ed evitare le polarizzazioni, le radicalizzazioni, è un compito che, specialmente per popoli che non sono nella guerra, è un compito etico fondamentale. A questo punto le voglio citare una frase che appartiene a madre Teresa di Calcutta. è la seguente, cosa puoi fare per promuovere la pace del mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. A me ha colpito molto. Bellissimo. Madre Teresa, se era viva ora, Papa Francesco la faceva cardinale di sicuro. Perché siamo anche a 60 anni dalla pace Minterris. La pace Minterris ci ricorda che per fare la pace bisogna essere artigiani di pace e architetti di pace. Che vuol dire? Artigiani dobbiamo lavorare sul pezzo che abbiamo a disposizione, il pezzo di vita, il brandello di vita che possiamo lavorare. L'artigiano lavora sul suo pezzo di legno, sui suoi vasellami, ma ci vuole una visione e la visione è quella che include i popoli, include le parti diverse, non le esclude, non ne mette una a vantaggio dell'altra. Allora in un'architettura così, lavorando in questo modo quotidiano, ecco che ciò che ci diceva madre Teresa è alla portata di tutti. Comunque la constatazione finale, Vaccari, è che Rondine rappresenta una pietra importante per la costruzione della pace. Ma Rondine fa questo da 25 anni. Rondine lo fa 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno, come diceva Don Milani, la scuola della totalità dell'integrale umano. E quindi che cosa fa? Tiene insieme quelli che la storia incessantemente vorrebbe far diventare nemici. I giovani di Rondine, tra i 22 e i 28 anni, tengono le relazioni, costruiscono relazioni, non si lasciano ingannare dalla ricorrente nascita del nemico. Noi lavoriamo proprio sull'inganno del nemico, però vediamo che il nemico è sempre alle porte, ma non perché c'è la guerra in Ucraina ora o perché la guerra in Israele, le porte aeree sfilano nel Mediterraneo. Il nemico ce lo portiamo dentro come possibilità. Allora bisogna stare attenti ed educare a prevenire la nascita del nemico. Ecco perché le polarizzazioni, le contrapposizioni, sono l'anticamera della nascita del nemico. Mai dobbiamo cedere a questa logica.